Di Gianni Fucci, Il progetto Era un povero matto, veniva da un paese vicino, sui suoi miseri stracci da pezzente portava al collo un asciugamano. Se vedeva un fiore sul ciglio della strada, si fermava a guardarlo, pieno di meraviglia. Fermava le persone per parlare, bonariamente, sempre col sorriso sulle labbra. Voleva sapere, ma soprattutto voleva dire, parlare del suo grande progetto. Presto andrò in America e sarò ricco. La pazzia è libertà.